Questa mostra è dedicata a Massimo Dulcini, che è stato un grafico che è molto conosciuto qua nel territorio marchigiano, soprattutto ha lavorato tantissimo nell'area di Pesaro, che è la sua città natale, ma in realtà è la prima mostra dedicata al suo lavoro in forma completa ed integrale. Che cosa comprende questa mostra? Una prima cosa è dove c'è un Dulcini che è un po' come un medico condotto, che quindi aiuta il paziente cittadino a capire come funziona la città, come sta cambiando la città, poi c'è una zona dove invece c'è il Dulcini imprenditore, che quindi è un po' come è cresciuta anche l'economia nelle marche, è cresciuta anche l'economia della comunicazione nelle marche, e c'è una parte finale dedicata a un Dulcini artigiano, che è invece un recupero di tutte queste autorialità che sono anche quelle popolari, cioè c'è la storia della cultura materiale, di come si facevano certi oggetti, come si fabbricavano e quindi una presa di possesso su un piano culturale completamente differente di questi mestieri che erano un po' dispersi.